Arigea, bella a tutti, come vedete stiamo in macchina perché adesso andiamo a faccia un'esplorazione Sì, secondo voi che andiamo a fare? Andiamo a Mignotte? No No, quello dopo No, perché siccome questo è una figa, non è che... Non fa per me, vabbè Lasciamo questi discorsi, allora, andiamo con Pokémon GO ovviamente Però facciamo un tentativo perché tu mi hai detto che in macchina, anche camminando, è possibile trovare i Pokémon Sì, perché io quando vado a lavorare o torno da lavorare, sto col telefono in mano pronto per... Ecco, ce l'hai in mano? Sempre pronto per l'occasione? Sempre pronto Giusto sì E quindi mo' ci provamo, però ovviamente io guido, quindi non posso assolutamente fare niente Eh, provo a fare tutto io, vediamo se... Fa tutto lui, quindi vediamo quello che succede, eh? Sì, a tra poco E vedremo tra poco Sì Che cazzo vuoi? Eeeh... No, niente, cioè, ti ho detto di ripia perché comunque stiamo in giro Ah Aspetta che questo mi intruppa Eh Non mi fate facite cose varie No, meglio te no Va giramo Vabbè, lanto sto riprendo io, tu puoi stare tranquillo Senza problemi Io c'ho una guida molto sportiva quando guido, eh Eeeh! Quindi non ci fate caso Sì sì, veri sporti, come no? Sì, ma... Passo con rosso, che dici? No Meglio te no Ci voglio arrivà a più tardi No, più che altro Non ti dico da da... Vai, vai che è verde! Oh zitto, non mi coglioni Eh E che cazzo Guarda questo Cioè Scusate l'accelerata Oh, guarda quello che paio di scarpe che c'ha, che dici? Lo ficcamo sotto e gliele inculamo Vai Vai Accelera, vai Vagala B, vai Vagala B, vai Oh, riparto, eh Eh, vai Abbiamo fregato le scarpe a quello, se riparte, regà Sì sì Scarpe nuove, ma dobbiamo decidere chi se le pia tra me e te, però Eh, guarda io Oh, oddio C'è un Pokémon Sì, aspetta Piglialo Aspetta Piglialo Aspetta Porca troia, non preme Piglialo, muovite Dai che sto in mezzo alla strada Eccolo, eccolo, zitto Dai che impicci Zitto che impicci Pigliamelo Zitto, fermate Piglialo che te compro Eccolo Dai, è così Eccolo L'hai piato Ecco, zitto che sta a fare la bocca A me sta andando a suonare Stante buono Zitto, zitto Eccolo, ho preso Dai, è così Dai, hai catturato Pigli Oh, la gente c'è sta a piape scema Che spettacolo E te credo I scemi Dove sta a piape scema a me che sto con il tuo telefono in mano Dai, ne voglio un altro però Non basta Zitto, zitto Guardate raga, comunque questo è PG Abbastanza scarso C'ha Attacco rapido E aeroassalto Fregna Accosto Oh, c'è sta la palestra con Pidgeot Oddio, c'è sta la palestra con Pidgeot Ma che cazzo stai a dire? Eccola Guardala Guarda, c'è stanno due palestre Pigliala Aspetta, tu non lo puoi fare Che perché non lo posso fare? E tu no Io sì Tu perché devi arrivare al livello 5 Tu stai al livello 2 C'è un Pidgeot qua Che vabbè Non penso di riuscirlo a battere nemmeno E qua c'è un Pinsir se non mi sbaglio E tu lo puoi battere? Non lo so Tu lo vedi quanto è forte Ma tanto a te non ti ci fa fare nemmeno l'accesso Vabbè dai Andiamo avanti voglio catturare un altro posto Dai su, dai Riparto Dai Che è sta roba? Allora qua ci sta un po' che stop Vediamo un po' Clicchiamoci sopra Che cazzo è? Pare... Parete cubista Ah ma è qua di fronte Ma pensate Che cazzo vuol dire? Ci stanno le zozze Eh sì Andiamo Ci stanno le cubiste Tiè Quattro pokeball ti ho fatto prendere zio Minchia Vabbè qua sono le notifiche di Youtube Non ce le va fregate nemmeno Riprova più tardi A posto Ok Dai Se puoi ripartire Riparto eh Riparti Aspetta che c'è sta una macchina Oh c'è sta un'altra palestra con Tangela E quindi? No con Angela Con Tangela ho detto Se puoi prendere? Io come mi sveglio la mattina Penso a Tangela Eh no tu no E che cazzo? Ma a che livello devo arrivare per prendere? Deve arrivare a livello 5 caro Stai a livello 2 Io nel frattempo continuo a girare Sì Oddio ha vibrato eccolo Ha vibrato eccolo Oddio Ma lo stai a registrare? Ma come no? Eccolo dai c'è Rattata Sì Rattatartopolo va Oddio il gruppo Dove sta Rattata eccolo Oddio il gruppo Dai che te lo pio Dai che te lo pio pure Rattata Dai che te lo pio Forza che spettacolo Il topaccio Sta un po' uncazzato però Rattata Vabbè sì Vabbè regà Questo è scarsissimo Vabbè però ce l'avevo me va bene Io li voglio via a tutti Attacco rapido lì per Zanna Dai è così Dai che c'ha lì per Zanna Questo gli piace Eh c'ha la Zanna Oddio un altro Figlamelo Un altro Rattata Figlamelo Figlamelo E oddio l'ha mancato No bastardo E zitto ho capito Eccolo 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 Dai che te catturo pure questo Dai Dovado qua giro Dai gira Giro Dai che hai preso pure questo Dai Va bene Oh me sta Fa ammazzarmi stai Che cazzo vuoi da me? Io devo girare eh Eh sì Sto a guidare Ok Vabbè questo invece c'ha l'attacco fossa Invece che Che cazzo Che c'è fa qua l'attacco fossa? Eh le fosse Caga in bocca all'avversario? Probabile Che schifo Ok Per il momento Allora nei dintorni che mi segna? Ah Venonat? Se può piar Eh me lo segna nei dintorni Quindi dobbiamo aspettare che Cambio strada aspetta Ah fa un po' come cazzo te pare? Aspetta Dai va dritto Vado dritto Eh Come per Viagra Esatto Sempre dritto Sempre dritta C'hai novità? No Zero Non vibra No non vibra Dai Ritorniamo tra poco Vediamo un po' se si riesce a prendere qualcosa Vai 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 Me lo sto a godere sto giretto turistico? Tu? No No Eh no Non lo sto a godere Cioè per fare Pokémon GO a te me sto a perdermi io Guarda un po' Eh che cazzo vuoi da me? Possiamo pure fare un episodio con te eh Con il Pokémon GO suo eh Ma poi lo famo poi lo famo dai Se mettete il mi piace ragazzi lo famo pure col suo Eh Eh Andiamo a sappia un caffè che dici? Manniamo Manniamo a sappia sto cazzo di caffè Aspetta che ficco sotto questa però un attimo Eh Fa attenzione Eh Salva A posto Questa l'ho voluta salvata la scarpe da donna che ce le devo fare Cazzo ce le devo fare A posto Se le potevamo rivendere però dai Volendo Volendo E com'era un atto Oddio se sta a muovere Oddio se sta a muovere Oddio se sta a muovere Oh sto a fare la rotonda Ma proprio mo cazzo Oh zitto 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 che mo lo vio Non me sprecate sferemo che cazzo Eh zitto Eh Cazzo Ma vaffanculo Non riesco a Oh Ma sto bastardo me la rilanciano addosso Ma che cazzo mi stai a dire? Ma che pe... Ecco dai che lo sto a prendere L'hai preso? Eh dai Daie Ma che è? Napoteosi Daie pure veno Nat Te l'avevo detto prima Cazzo cazzo e moll Cazzo cazzo e moll Cazzo cazzo e moll Sì Sì Daie Ancora un giro Guarda che roba Eh daie Registrato nel Porchedex Nel Sorchedex Oh ma sta a fare una collezione di quelle incredibili Oh questo c'ha pure psico raggio eh Me coglioni che fa? Pazzisce Eh no psico raggio l'attacco psico che non trovo io Eh appunto sprocca Sì fa sbroccare altri Bello Oh Rega vedeva un po' qua intorno C'è stata una palestra Eh ma questo però è il pokemon go tuo Eh certo che è il mio Daie Oh Io qua non ci sto Allora Che cazzo è qua sto coso Io non lo Rega non lo so Ve lo giuro non lo so Io se Ecco Cazzo Voglio mettere innanzitutto Dratini E poi Al posto di E mi mette un po' più così Ecco Ok scusatemi Al posto di questo Voglio mettere Charmander Che pure se è scarso Lo voglio fa Sali un po' di livello Raticate magari me ne basta uno Rega sollecio pure qua Scegliami i pokemon Madonna Oh muovite Sollecio pure qua Ma PG8 ce l'ho Mi sembra di sì Vabbè rega Eh dai ce li metto a Geotude Dai combatti Go Come se Hai scelto Che cazzo Come si combatte aiuto Oddio Che spettacolo Sfida uno Sfiga uno Oddio Che devo fare Oh Ah ma schivato Schivato zitto schivato zitto Oh non l'ho schivato No che me voglio rendere Un par de palle Attacca Zitto zitto Oh ma come si fa ad attaccare Sì ma non vedo lo schermo Devi metterlo più da me Non so come si fa ad attaccare però Lo sai Prova a cliccare sul pokemon Eccolo Appizzagliato Eh zitto zitto che mi ha sconfitto Dai Non puoi perde Sei una me... Madonna mia Dai Dai che lo sfracello Sì Sì Dai eccoci E uno è annato Ma porca troia Sfida alla pari Ma no non è sfida alla pari Questo è più forte Dai mozzi che gli è in bocca Mozzi che gli è in bocca Zitto 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 Dai che me lo faccio Dai che me lo faccio Dai che te lo fai Oh c'è sto quasi eh Con coso con Geodud Con Geodud Dai 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 è Geodud Dai è Geodud Dai È morto Hai vinto Ho vinto E che cazzo fai Livello palestra 1 Ma che cazzo ne so Allora qua che è Allora pokemon sconfitti 2 Pu di esperienza più 250 Prestigio della palestra a meno 2005 Il solito sgrotto che fai silenziato Bravo Va bene Ma quindi ma che vuol dire Ma sono diventato patrone di questa palestra o no Che cazzo ne so io Che sei mafioso Ma io voglio essere campione De sto cazzo Ma vaffanculo va Non ci ho capito un cazzo Però vabbè dai Fa niente Vabbè comunque hai vinto dai Si Io direi però che possiamo ritornarcene a casa a sto punto Allora si Cominciamo a ritornare Vabbè sto radicate comunque stanco Quindi mi sa che gli devo fare i PS Vabbè Dopo ci diamo un'occhiata meglio Io direi che per oggi basta Si Quindi se volete un nuovo episodio di pokemon go Diteci voi se lo volete vede in macchina Se lo volete vede in giro Quello che preferite Mettete un bel mi piace Perché solo così continueremo la serie Si A sto giro chiediamo 250 like Yes Perché vediamo che il gioco comunque vi è piaciuto parecchio Invece credo Quindi commentate Condividete Iscrivetevi al canale Vai Detto questo Io riparto Tu riparti Andiamo a casa E vediamo appuntamento alla prossima con un nuovo video di pokemon go Ciao a tutti ragazzi Bella rega Ciao